Adesso potete passare in duplano. Poi sentite, potremmo mettersi un'altra piede. Forza, forza! E' buono, forza, forza! Andrea, forza! Soprattutto il primo giro, attenzione, attenzione! Allora, forza! Prego, ci saranno in arrivo già gli atleti che completano. Quando gli atleti li puttano giù, voi li raccoglietti e li mettete da dentro. Grazie! Benissimo, benissimo, benissimo! Trovate tantissima manovalanza. Grazie, molto gentili. Gli stacchi saranno un po' aumentati. Adesso vediamo se riescono a tenere un buon ritmo. C'era un gruppetto in testa composto da felloni. Da felloni della Polisportiva d'Oro. Eccoli qua, i tre atleti. Abbiamo Samuele Fabri della Salcusa. Della Salcusa. Felloni. Giulia Cesare! Giulia Cesare! Un'altra! Quarto. Roberto Pavara. Che sta prendendo bene. Vediamo Emanuele Ghiraldini che sta continuando la sua professione. Come vedete ha ridotto il margine rispetto ai primi. Bravo, bravo, coraggio. Ha preferito questa sede a fare una gara in professione senza portare al massimo. Dai, dai, bravi. Signore, il primo dei tre giri, dai che lo venisse così. Dai, perni, forza. Dopo, scelta. Dai, di fronte. Dai, dai, io. Ricordo i tre atleti che arriva in questo senso. e in questo senso è l'antornino. Sono tre giri completi da fare, quindi l'arrivo è in questo senso. Quindi sul lato te e dalla te. Dai, torno. Dai, Luca, forza. Luca, fa. Ecco, Luca, forza, forza. Dai, forza, forza. La prima sera di caldo e si sente così. Dai, forza, bravo. Dai, forza, bravo. C'è uno quinto scelto. Grazie. 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 No, state attenti che qua passano veloce. Si divertono più gli adulti che i bambini a sbassare nell'acqua. Cosa dire di questi adulti? Forza, forza, attenzione. Giù di strada per cortesia, attenzione. Brava, brava. Forza, forza. Guarda che la viva è sul terzo giro completo. Brava, guarda. Guarda che il terzo giro è il terzo giro completo. Guarda che il terzo giro è il terzo giro. Com'è il terzo giro? Ehi, io! Cosa? Ehi, io! Perci donna. Ehi, io! Ehi, io! Ehi, io devo prendere i piedi. Non mi sei più capace. Mi viene. Non mi sono scoperto o non mi sta? Non mi sono scoperto. Non mi sono scoperto. Non mi sono scoperto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.